Siamo con l'avvocato Bruno Sgromo, uno dei massimi esperti di un tema spinoso, è una questione sempre più complessa da affrontare ormai anche in Italia, che ha una parola chiara come titolo, malasanità. Avvocato Sgromo, vogliamo disegnare i contorni di questo complesso pianeta? Oggi si parla in modo particolare di malasanità perché naturalmente c'è stato un aumento di contenziosi. Ora da quello che emerge dai giornali sembrerebbe che questo aumento di contenziosi sia stato solo in Italia, però è giusto che gli utenti sappiano che invece il numero di contenziosi in Italia è assolutamente nella media dei paesi del Mediterraneo, anzi le denunce di malasanità ci superano nella tanto decantata Germania per ben 5 volte, quindi del 500%. Per cui non è assolutamente vero che si è in un, come dire, come si parla della malasanità come se ci fosse un business dietro di quelli particolari, no, assolutamente no, ci stiamo semplicemente attestando in quella che è la media europea. Molto semplicemente il rapporto medico-paziente è un rapporto di fiducia, molto intimo, che qualche volta può andare in crisi, secondo me anche per via della diffusione di internet che è uno strumento che ci ha reso un po' tutti i medici, poi ci può essere l'errore. La questione che rompe il rapporto di fiducia e qualche volta purtroppo sfocia in tragedie. In quel caso un paziente che in questa dinamica è il soggetto più debole, cosa deve fare prima di tutto? Sì, intanto, come diceva, internet informa, ragione per cui oggi il maggior utilizzo di internet ha portato i cittadini chiaramente a prendere coscienza del fatto che nel caso in cui vi sia un errore medico, questo, se appunto riscontrerà il parere della medicina legale, diciamo, può essere risarcito e questo credo che sia una consapevolezza che è giusto che il cittadino abbia. Chi è che materialmente, nella maggior parte dei casi, poi paga, cioè effettivamente opera il risarcimento? Allora, i risarcimenti vengono erogati dalle strutture sanitarie quando non sono assicurate, prevalentemente. e naturalmente quando sono assicurate dalla società assicurativa. Considerate che oggi le assicurazioni italiane non assicurano più le strutture ospedaliere, l'unica assicurazione, la maggiore, diciamo, delle poche che stanno in questo momento assicurando le strutture sanitarie è la M-Trust Europe, un'assicurazione americana. Quindi il suo lavoro, avvocato, è dare uno scudo al paziente o ai familiari di pazienti che hanno subito danni per vicende di malasanità e portare nella fase giudiziale o anche extra giudiziale al risarcimento. È un'operazione, come dire, quanto complessa? Come deve muoversi il paziente in questa che è, immagino, una foresta intricata? Sì, non c'è dubbio. Vorrei fare una premessa che noi è vero che tuteliamo i pazienti, però io oserei dire che in qualche modo tuteliamo anche i medici. Strutture come la mia, che si occupano in via esclusiva di responsabilità professionale medica, in linea di massima, lavorano a risultato, chiaramente sempre nei limiti di quella che è la dentologia forense, comunque diamo questo tipo di servizio. Ed è interesse, naturalmente, anche nostro, quello di, diciamo, preservare il paziente da azioni legali che non siano meritevoli di tutela. Quindi, in sostanza, il paziente non paga nel momento in cui incrocia il suo studio, eventualmente il risultato ottenuto, una volta che lei è decisata di prendere in carico il caso, diventa una... In sostanza, in linea di massima, sì. E dicevo, quindi è una tutela non solo per il paziente, anche per il medio, perché tentiamo comunque sempre di agire nei confronti delle strutture sanitarie, ma di in qualche modo lasciare dall'azione giudiziaria la figura del medico, sia per non avere una controparte in più, ma anche per una questione, direi, morale. A meno che poi, ovviamente, non ci siano dei casi così eclatanti che allora non impongano addirittura anche la via penale e quindi l'azione diretta nei confronti del singolo medico. Le storie sono, immagino, molte quelle che hanno attraversato il suo studio. Che tipologia le viene in mente, prevalentemente? Anziani che hanno subito, danni o familiari? No, noi riceviamo una media che va da 10 ai 15 segnalazioni al giorno. Chiaramente, come puoi immaginare, ne selezioniamo tantissime, o meglio, poi ne andremo a seguire sotto il 10%, se vogliamo dare una percentuale. I casi sono dai più disparati, perché vanno dalla chirurgia all'oncologia, alla neurochirurgia, alla ginecologia ostetricia e queste sono, diciamo, le materie più complesse e anche quelle più importanti. Nella selezione che viene operata dai consulenti, quindi specialisti, ognuno in una materia che noi abbiamo, è una selezione che io intendo fare rigorosa, nel senso che non sono solito seguire cause che non siano veramente tutelabili, nel senso che ci deve essere una responsabilità acclarata. Dal punto di vista delle tempistiche, immagino che ogni caso sia storia a sé, inevitabilmente, ma cosa deve aspettarsi un paziente o familiari di pazienti che avviano una causa di questo genere per malasanità? I pazienti sono soliti pensare che ci vogliano degli anni per risolvere i loro casi, invece questo devo dire che non è vero, nel senso che ci sono delle procedure alternative, quali per esempio l'accertamento tecnico-preventivo, i sensi del seno esibito e il codice di procedura civile, che ci consente in tempi relativamente brevi di avere una perizia esperita, quindi una perizia non di parte, ma esperita dal tribunale, quindi super partes, che poi può consentire una transazione con la struttura o con l'assicurazione della struttura stessa. Quindi ci sono dei casi in cui si riesce a chiudere anche nell'arco di 8-10 mesi, come dei casi dove invece c'è bisogno di un tempo superiore o che comunque successivamente all'espletamento di questa procedura, di questo accertamento tecnico-preventivo, si debba poi a dire anche le vie ordinarie, per cui in questo caso ci vorrà un più tempo. Percentualmente sono più i casi che chiudono in extra giudiziale, per capirci, prima di arrivare al dibattimento, al processo, oppure più quelli che vanno effettivamente davanti Se consideriamo l'accertamento tecnico-preventivo nel quadro di un ambito stragiudiziale, perché non è chiaramente un vero e proprio giudizio, potremmo dire un 50-50. Quindi queste sono le percentuali realistiche rispetto a eventuali casi che fossero da sottoporre all'Avvocato Sgromo. Il tema più complessivo individua nella cosiddetta area della malasanità un costo molto significativo per la collettività. Io so che lei ha un'idea piuttosto precisa sul fatto che poi troppo spesso proprio queste cause di risarcimento in realtà comportano carichi per la collettività, perché magari le strutture pubbliche non pagano o pagano con ritardo, quindi aggravandosi di costi ulteriori. È anche una soluzione civile quella di esporre chiusure rapide questo tipo di percorsi. Assolutamente sì, perché innanzitutto ci sono degli sprechi che potrebbero essere evitati. Un esempio su tutti, nel caso di una sentenza passata in giudicato, che rappresenta un titolo esecutivo, quindi a me è capitato che la struttura ospedaliera non paghi nemmeno in questa ipotesi e quindi io ho dovuto a dire delle altre procedure, quali l'esecuzione forzata o il giudizio o temperanza per ottenere l'esarcimento del danno. Ovviamente queste due procedure si sono, come dire, i costi di queste due procedure sono andati a gravare sull'ulteriore costo che già era quello della responsabilità medica. Quindi io prima di parlare di tagli alla sanità tentere di evitare questi costi aggiuntivi che sono veramente, come dire, impensabili per un paese civile, civilizzato come il nostro. Qualche volta viene raccontata la figura dell'avvocato a voltoio presente nella corsia ospedaliera con i biglietti da visita. Diciamolo chiaramente è una figura inventata, insomma, perché semplicemente non ci sarebbe molta semplicità d'accesso a una dimensione di noi. Io sono rimasto sorpreso di questa, perché ho letto sui giornali appunto che ci hanno, come dire, addebitato o accreditato di questa figura animalesca qual è l'avvoltoio, ma io, cioè, è facile fare un ragionamento, nel senso voi immaginate un avvocato che entra in un ospedale a dare i bigliettini da visita ai pazienti. Quanto meno verrebbe denunciato, radiato dall'albo due e tre, come dire, subirebbe violenza fisica da parte dei medici e degli infermieri della struttura stessa. Perché queste sono ipotesi veramente che riscontriamo solamente nei fumetti o nei romanzi di Grisham. Quindi il dato reale qual è? Che c'è un paziente, qualche volta, raramente, insomma, subisce una condizione di lesione dei propri diritti e va a chiedere riconoscimento del proprio diritto. Poi l'avvocato Sgrom valuta se il diritto è riconoscibile, tutelabile o meno. Cioè, il percorso mi sembra questo, insomma. E il tema importante è anche quello di non avere paura, però, di un percorso di questo genere. Un percorso, quello della tutela del proprio diritto, che va, per certi versi, incoraggiato e riferito possibile. Io posso suggerire, intanto assolutamente non bisogna avere paura perché non si rischia poi assolutamente nulla. Importante è essere cauti, come è normale che sia, soprattutto in questioni così delicate, come è importante rivolgersi ad avvocati specializzati che possono dare ai clienti i consigli, voglio dire, quelli più opportuni. Non c'è da avere paura perché, ripeto, ci sono, oltre all'esempio che facevo prima, cioè al modus operandi dei nostri studi legali, che quindi consentono al, diciamo, al paziente il rischio zero, se considerate che, come dire, lavorano a risultato. Ma, cosa più importante, come dicevo prima, ci sono queste procedure alternative che non culminano con una sentenza, per cui non vi è nemmeno il rischio, nell'ipotesi in cui non ci dovessero dare ragione, che vi sia appunto una sentenza con condanna alle spese. Quindi, anche in questo caso, io non vedo rischi da parte del cittadino che si rivolge, che pensa di essere stato vittima in un caso di malasanità e che voglia poi agire. C'è un sito dove ci si può rivolgere immediatamente per avere informazioni, diciamo, sulla sua attività rispetto alla vostra attività qui nello studio sgromo? Sì, il mio sito è risarcimentomalasanita.net. Ricordiamo, www.risarcimentomalasanita.net e l'incontro poi è immagino immediato con lei e con i suoi collaboratori? Certamente. Noi riceviamo in studio, addirittura con lo specialista medico, a seconda del caso che ci viene prospettato, quindi se è un caso legato alla chirurgia, quindi col chirurgo, alla ginecologia col ginecologo, con l'oncologo, col cardiochirurgo, a seconda delle singole fatti specie, in modo da dare un servizio il più puntuale possibile al paziente, anche nell'ipotesi in cui non c'è la responsabilità, avrà uno specialista o medio che gli dirà i motivi per i quali non c'è responsabilità. Bene, con l'avvocato sgromo abbiamo evidenziato i territori di un percorso complesso in un pianeta appunto dai contorni ancora incerti, ma che vanno analizzati, si chiama Mala Sanità, non abbiate paura di tutelare i vostri diritti, i vostri diritti, la vostra salute, i diritti dei vostri familiari, nel caso sono stati violati, hanno diritto a essere tutelati. Dunque, rivolgitevi a professionisti di fiducia e con intelligenza e pacatezza tutelate ciò che c'è da tutelare. Da Maria di Noffi, buona giornata.